E' una denuncia mia. Buongiorno. Sono l'ispettore Esposito. Ah. E ho un appuntamento col dottor Caffasso. Il dottor Caffasso in questo momento non c'è? Ah, va bene, lo aspetto. Intanto presentiamoci noi, sono Silvia Esposito. Dovrei lavorare qui. Agente Donati, Alfio Donati. E lui è Luciano Russo. Salve. Mamma. Finalmente la nuova espettrice dell'investigativa. Le voci corrono. In specie ci sono carine, piacere, Walter. La voce galante del nord. Da dove vieni? Da Treviso. Ci stai bene a Napoli? Ci credi che mi dicono questa cosa da quando sono arrivato? Non sarà che siete voi napoletani che non ci state bene? Perché io benissimo, giuro. Io conto molto sul suo senso di giustizia, sul suo essere donna. Che si tratta? Deve infiltrarsi nel giro di torrenta. Fingermi una prostituta? Una ex prostituta. Una tenutaria di case che in un'altra regione cerca, come dire, materia prima. E perché dovrebbero farmi entrare? Perché ha per amante un policciotto corrotto che può procurare i telefoni. Uno dei nostri? Battistone. Se ho capito bene, tu sai quello che vende e io quello che dovrebbe comprare. Ah, se... Questo è il dano di parlare con i professionisti. Ci si capisce al volo. Sono esperienze che scombinano la vita. Lo so, l'ha detto anche lui. Petterella passa metà del suo tempo a scaldare il culo sulla sedia. Io ci sono passato per davvero. Insomma, io ho visto Torretta massacrare di botte quella poveraccia. Ha l'idea di poter fare qualcosa, eh? Di botte. L'idea di poter fare qualcosa di fonte, questo è il punto. Perché dovrei fidarmi di te? Perché non c'è un'alternativa. Quanto? Il 10%. 10%? Ma tu sei mamato di testo. E tu invece sei già dentro. No, aspetta. Stai capo. E come la dobbiamo calcolare la tua tangente? Tangente? Che parola grossa. Io la chiamerei più percentuale, no? Siamo uomini da fare. E comunque non sarà difficile perché non sono i soldi che mi interessano. Ma no? No. E allora che cosa vuoi? Io voglio le ragazze. Una ogni 10 è per me. E ci penserà una mia amica, sì. Forse vuoi metterti in troppo? Io proprio già ci sto. Sperai che faremo un gran lavoro io a te. Sei pronto? Pronta? Non vi offendete. Semplicemente sono abituata a lavorare con gente diversa. Appunto, gente di alto livello. Poi non le troverai mica così tante, eh? Ma ce la faccio diventare io di alto livello. La merce. E' questo l'affare, no? Paghi poco e incassi tanto l'anima del commercio. Certo che mi muovete bene tu e il tuo amico poliziotto, eh? Ma ti fidi di lui? Sì, abbastanza, perché? Non dovrei. Eh, se un giorno gli gira male e comincia a ricattare pure a te? Lui è il mio uomo. Fa tutto quello che gli dico io. E anche tu fa tutto quello che ti dice a lui. No. A me ne sono da ordine. Le piace, leziane. Sei di quello che vorrei una pare. Ma a te soltanto, però. Che significa? Che a lui lo voglio fuori. Che fai? Non mi saluto. La proposta mi sembra allettante. Ne parlo con Walter e ti faccio sapere. Walter non lo voglio in questo affare. Ma io guarda che ti parlo. Ti sto dicendo che Walter non lo voglio in questo affare, chiaro? Quando dovremo partire? Siamo già partiti. Mi hai buttato il telefonino. Mi hai portato in questo cazzo di posto. Ma che c'hai? C'hai paura? Eh? Non stai pensando al tuo amico polizio? Sai da qui? Da questo momento in poi me ne occuperò io personalmente. Sono un idiota se pensi che non farò niente.